Terminare bene un discorso, un intervento, è cruciale e tutti noi abbiamo l'ansia di terminarlo bene perché vogliamo lasciare una bella impressione finale. Va bene, è giusto questo. Vogliamo lasciare un bel risultato. Vogliamo fare in modo che il discorso sia memorabile. Mamma mia questa espressione è il discorso memorabile, cioè che tutti se lo devono ricordare. Non vi dico quanto sia stato memorabile uno dei miei primi discorsi quando ero ragazzo. Non riuscivo a infilare una parola, non riuscivo a infilare un concetto, non sapevo se avevo cominciato bene, dove volevo andare a parare, mi ero dimenticato tutto perché avevo imparato tutto a memoria. Quella è stata un'esperienza memorabile, sicuramente per me. Ma lasciamo perdere, non è questo che vogliamo. Memorabile, ma più che memorabile è che aiuti le persone. È questo che rende potente un finale, una conclusione di un discorso. Allora ci sono due macro modi per terminare un discorso. Il primo è quello della commedia e l'altro è quello della tragedia. Facciamo bene attenzione perché entrambi possono essere utili. Si potrebbe pensare che finire in tragedia, o per così dire in tragedia, possa essere sbagliato. Perché? Perché dà un'immagine pessimistica magari al pubblico, le persone che ci stanno ascoltando. Ma non è esattamente così e poi lo vediamo. Tendenzialmente vogliamo finire in commedia. Cosa vuol dire? Commedia e vissero tutti felici e contenti. Quindi presentiamo una problematica all'inizio del discorso, presentiamo dei rischi, presentiamo delle sottoproblematiche, delle possibili soluzioni, ma diciamo no, questo non è adatto, quest'altro non è adatto, ecco la soluzione. Quindi la mia tesi, la mia idea, arrivo alla conclusione, la mia idea dà questi risultati. Gli obiettivi sono raggiunti e quindi vissero tutti felici e contenti. Quindi vuol dire terminare un discorso con una prospettiva positiva. Lascia un buon sapore. Facciamo un esempio. Se io spiego come terminare bene un discorso, e questo è appunto il mio discorso, terminare bene un discorso, voglio che alla fine rimanga l'impressione di qualcosa di piacevole e se termini bene le persone avranno un bel ricordo di te. Punto. Ho finito. Supponiamo che io non abbia finito e che dica hanno un bel ricordo di te e quindi evitiamo che ti possano criticare o che possono quindi parlare male di te successivamente. Punto. E come puoi aver capito, ho finito così, non ho finito con la commedia. Perché? Perché ho stimolato nell'ascoltatore o nell'ascoltatrice un pensiero spiacevole. E quindi la critica. E quindi ho fallito, non sono andato bene. Questo significa che non è più commedia. Avevo finito con la commedia. Tutti si ricorderanno di te o avranno un bel ricordo di te o non so che altro. Va bene, ho finito lì. Ho aggiunto un pezzettino. No, è sbagliato, non è più commedia. Quindi facciamo bene attenzione. Se vogliamo finire con la commedia, con quello deve finire. Poi uno si deve chiedere. L'ho detto? A posto. Basta. Fine. Silenzio. Punto. Ma poi posso voler finire anche con la tragedia. Dici, ma come posso voler finire con la tragedia? Allora ricordiamoci che cos'è la tragedia. La tragedia è un racconto, però più teatrale, appunto, dove finisce tutto male. Tutti muoiono. C'è un spargimento di sangue. I beni vengono perduti. Distruzione, eccetera. Ma dove posso finire in questo modo? Beh, forse proprio così direi in linea di principio no, ma potrebbe anche essere, se io voglio lasciare, l'amarissimo in bocca delle persone che ho davanti. Potrei finire con una semi tragedia. Cioè, attenzione, dipende dal tema che stiamo affrontando. Facciamo un esempio. Se stiamo parlando di violenza contro le donne, purtroppo, a tutt'oggi, purtroppo, il problema non è risolto. E siccome non è risolto, se io termino il mio discorso con una commedia, quindi con E vissero tutti felici e contenti, e vedrete che questo sarà il risultato, e vedrete che andrà tutto bene, la percezione di chi mi ascolta è che sia tutto risolto. E avviene esattamente quello che succede in teatro, la cosiddetta catarsi. Cos'è questa cosa strana della catarsi? Letteralmente è la purificazione. Cioè, mi hai presentato un problema, mi hai presentato il modo per risolverlo, andrà tutto bene perché verrà risolto in questo modo, poiché tu me l'hai detto, io sono a posto, il problema non mi appartiene più, mi sono purificato del problema iniziale. È la stessa cosa che accade al cinema. È la stessa cosa che accade quando leggiamo un romanzo. Noi viviamo una catarsi se finisce tutto bene, siamo purificati e del problema non ci occuperemo più. Ma, per esempio, il problema della violenza contro le donne purtroppo persiste ancora. Ecco allora che potremmo terminare in modo forse più utile problematizzando. Cioè dicendo che il problema non è risolto. Chiedendoci allora che cosa possiamo fare da questa sera, da adesso in poi, per affrontare questo problema gravissimo. E posso chiudere così. Tu dici, lascia un'angoscia nelle persone. Le lascia imbarazzate. C'è un imbarazzo, una problematizzazione ancora non conclusa. È la realtà dei fatti. Che cosa vuol dire imbarazzare? Ma imbarazzo o imbarazzato viene da imbarazzato. Lo pronuncio molto male, è lo spagnolo. Deriva dallo spagnolo, se ricordo bene, tardo medievale. Letteralmente significa legato. Proprio legato con le corde. Significa allora che io sto in qualche modo legando, cioè imprigionando le persone che ho davanti, al tema, al problema. Perché? Perché non è risolto ancora. Allora sì, io voglio imbarazzarle su questo. E voglio dire, signore, signori, aiutiamoci. Cerchiamo davvero di risolverlo. La catarsi non c'è più. Non c'è più la pulificazione. E quindi? E quindi sento un desiderio di essere attivo nel cercare di risolvere. E ho ottenuto allora lo scopo con il mio pubblico. Che continui a interessarsi al problema. Un altro punto fondamentale, quando cerchiamo di capire come terminare il discorso, è questo. Evitare di voler cercare a tutti i costi, fin dal principio, come terminare il discorso. Cioè, devo trovare quella frase, no? Che, mamma mia, vuol dire che non se la dimentica nessuno. Allora comincio a scervellarmi, o a scervellarmi alla lombarda. Comincio a scervellarmi su cosa dovrò tirare fuori. No, no, aspetta. Aspetta, è troppo presto. Perché? Perché il finale, l'abbiamo visto poco fa, è la risultanza di un lavoro di ricerca sul discorso. Allora prima devo capire qual è davvero il problema, quali sono i rischi, quali sono i sottoproblemi, che cosa posso fare, cosa è opportuno non fare, eccetera, eccetera, eccetera. E cioè, devo capire bene qual è la mia tesi. La mia tesi è l'idea principale. Cioè, che cosa io penso del tema? Il tema è il campo. Di indagine, di ricerca. Il campo di tutto ciò di cui andrò a parlare. La mia tesi è praticamente la declinazione personale del campo. Facciamo un esempio. L'inquinamento. Problema. Come risolviamo l'inquinamento? Il problema dell'inquinamento? E allora la mia tesi può essere, risolvo il problema dell'inquinamento, basta auto per sempre, via, basta, da oggi a domani. Non si guida più l'auto, a meno che non sia elettrica. Oppure, questa è una tesi. Oppure, ancora, inquinamento il tema. La mia tesi può essere, passiamo gradualmente alle auto elettriche nel giro di vent'anni. Un'altra tesi. Passiamo gradualmente alle auto elettriche nel giro di cinque anni. Vedete come le tesi possono essere diverse, ma il tema è sempre lo stesso. Ecco perché io devo trovare la chiusa del mio discorso alla fine. Cioè, letteralmente, questo lavoro lo faccio alla fine. Alla fine, dopo aver trovato tutte le idee e dopo averlo esposto più e più volte a me stesso, questo discorso, o me stessa, e alla fine trovo la chiusa. La chiusa deve essere quanto più semplice possibile. Ma questo lo vediamo dopo, eh. Lo vediamo dopo perché spesso si pensa di voler fare i botti, i fuochi d'artificio, e invece parliamo fra poco di oggetti. Possono essere molto utili per chiudere il discorso, poi capiamo. Ma prima, le citazioni. Eh, molte persone mi dicono, quando sono in consulenza, tra l'altro se vuoi la consulenza, vuoi sapere come funziona? Qui c'è il link, qua sotto c'è il link, lo mettiamo anche qua. Mi chiedono spesso, posso chiudere con una bella citazione di un bell'autore? Ma sì, certo che puoi farlo, ci mancherebbe altro, ce ne sono tantissime. Ora, c'è da dire questo, che quando tu usi una citazione di un altro autore, a parte il fatto che la devi verificare, davvero, perché spesso ci erano su internet delle citazioni che sono totalmente sballate. Ma a parte questo, se tu la metti proprio per ultima, 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 cosa succede? Che le persone chiudono con quella frase lì? Bene, si ricordano l'autore, non più te. Perché in un elenco di oggetti che ci vengono presentati uno dopo l'altro, noi tendiamo a ricordare di più i primi e gli ultimi. Non possiamo ricordare come ultimo la frase di un altro autore, no? Vogliamo la frase di te, di te come autore, autrice. La citazione la sì, la possiamo anche utilizzare. Ho girato un video su questo, lo trovi qua sopra. E a seconda della collocazione acquisisce un significato diverso. Allora, ti consiglio, non metterla proprio alla fine. Finisci con la tua citazione. Cioè, cita te stesso o te stessa. Gli oggetti. Prendo questo. È un cacciavite. Si vede? È un cacciavite. Cacciavite che posso utilizzare, per esempio, all'inizio del discorso, con un significato metaforico. Beh, intanto ha un significato fisico. Il cacciavite serve per avvitare, ma anche per svitare. Avvitare significa rinsaldare. Sai quando abbiamo l'oggetto che sembra un po' traballante, ci sono alcuni pezzi che sono... Aspetta, diamo qualche avvitatina. Ah, bene, adesso è solido. Ma può essere anche svitare. Perché? Per andare a vedere che cosa c'è all'interno. Qual è il problema? Svitare, allora, le viti significa aprire il pannellino e andare a indagare. Bene. Vedi come già tutto questo acquisisce un significato metaforico. Cioè io vado a svitare il pannellino per la lavatrice, ma posso svitare il pannellino per entrare dentro il problema che stiamo affrontando. Per esempio il problema dell'inquinamento, della violenza contro le donne e qualunque altro tipo di problema. Ma attenzione. Questo oggetto, supponiamo che io lo utilizzi all'inizio, o lo utilizzi in mezzo al mio discorso, alla fine può essere risignificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'inizio aveva un significato, quello fisico, subito metaforico, cioè aprire il pannellino, guardare, oppure stringere le viti, rinsaldare i pezzi che sembravano deboli. Ma alla fine decido che gli do un altro significato, lo stesso identico oggetto. Per esempio, questo cacciavite piccolino ha la punta a taglio, ma siamo sicuri che per risolvere la questione sia davvero necessaria la punta a taglio e sempre. Non potrei avere bisogno, per esempio, di una punta a stella. Ci sono vari tipi di punte. Le principali sono queste due. Ma scegliere taglio oppure scegliere stella è più che rilevante, è determinante. perché dipende dalla situazione, dal contesto. scegliere allora una punta significa avere ben chiaro il contesto, la situazione e i destinatari a cui mi sto rivolgendo. Facciamo un esempio. se sto parlando in un consesso, in una situazione in cui ci sono persone che sono notoriamente credenti, per esempio cristiani, cattolici, bene, sto parlando con loro ed esprimo la mia opinione per migliorare la vicinanza umana, relazionale, ma anche cognitiva, se vogliamo, con queste persone, quando esprimo un mio pensiero diventa interessante farlo utilizzando la parola io credo che piuttosto che la parola io penso che, io ritengo che. Cioè, sentite come io credo che sia molto più vicino a persone che credono effettivamente, quindi che sono religiose, piuttosto che io penso che, io ritengo che. Che sono termini invece più appropriati, ad esempio, per un altro tipo di comunità specifica, non necessariamente il contrario di quella religiosa. Potrebbe essere una comunità scientifica dove il verbo credere sembrerebbe essere meno indicato. Allora, due precisazioni. Primo, queste non sono verità assolute. Cioè, non è come dire che utilizzo credere e pensare e sarebbe come l'acqua bolle a 100 gradi, altitudine 0 sul livello del mare, ad una pressione determinata di bar che non mi ricordo più qual è, ma comunque è quella ed è sempre così sul pianeta Terra, peraltro. No, quindi non c'è una verità assoluta che vale sempre. L'altro punto è ancora più importante ed è la cornice etica. Cioè, lo dico poi non lo dico più, eh. Utilizzo il verbo credere per una maggiore vicinanza al mio uditorio, per esempio, che so essere un uditorio di credenti, non per fregarli, non perché io li voglia raggirare, no, questo ce lo mettiamo via. Questo non ci interessa. Non lo dico più. Lo utilizzo semplicemente per migliorare la reciproca vicinanza. Tutto qua. E allora ecco che credere ha la punta a taglio oppure la punta a stella. Come chiudere alla fine? La cosa più importante, lo dicevo anche prima, è chiudere nel modo più semplice possibile. Evitiamo, cioè, di voler tirare fuori la frase per i fuochi d'artificio. Perché la chiusa deve essere un momento di massima semplicità, che si ricordi più facilmente. È chiaro che se ti dico una frase breve, semplice, comprensibile da tutti, questa sarà più facile da ricordare. Ma magari anche da mettere in pratica. Supponiamo che io voglia chiudere con una call to action, cioè una chiamata all'azione, insomma, un'esortazione, un consiglio forte, anche una richiesta forte. Per esempio, da domani cominciamo tutti a comportarci in questo modo e allora da domani facciamo tutti questo affinché, oppure magari se devi vendere un prodotto, scarica, scarica, fai il download, o entra in negozio, tutto quello che vuoi. E la call to action, o chiamata all'azione, deve essere semplice. mi viene in mente ad esempio una chiamata all'azione, se vogliamo, negli anni 60 l'hanno esatto, non me lo ricordo, di Papa Giovanni che diceva e tornate a casa, fate una carezza ai vostri bambini e dite che questa è una carezza del Papa. Ora, possiamo essere credenti, possiamo essere non credenti, possiamo essere cattolici, non cattolici, non ha nessuna importanza in questa situazione, ma sentite come è semplice questa frase, tornate a casa, fate una carezza dei vostri bambini e dite che è una carezza del Papa, parole comuni, semplicissime, comprensibilissime, immediatamente. Evito cioè di costringere le persone alla fine a dover ragionare troppo. Naturalmente prima ci deve essere stato tutto il discorso che mi ha portato lì al massimo della semplicità. In sostanza, mano a mano che procediamo dall'inizio alla fine, il lavoro consiste nel sciogliere i nodi del tema grazie alla nostra tesi di stendere le corde che erano annodate e rendere tutto quanto più semplice possibile. E adesso buona ricerca del tuo finale. Se vuoi seguirmi qui sul canale, se proprio vuoi, puoi farlo, ne hai facoltà e come hai facoltà anche di entrare nel mio canale Telegram che è gratuito, ci sono tanti audio di approfondimento. A presto, ciao!